Siamo qui con Buono e Medai, due vincitori del canale della Coppa di oggi. Partiamo con Buono, prestazione ottima direi, due rigori parati, due grandi parate nel primo tempo. È un'emozione bellissima anche perché è bellissimo vincere questo titolo regionale per la prima volta nel Siregno e ringrazio tutta la mia squadra. Poi il paramento di Medai, il rigore decisivo, che emozione. Sì, un po', ma anche il merito della squadra perché fino alla fine forza Siregno. Comento tecnico sulla partita, al primo tempo avete un po' rischiato creando anche voi occasioni, nel secondo invece siete riusciti a gestire al meglio la partita. Sì, è stato un po' difficile anche per il sole, ma alla fine i vincitori siamo sempre noi. Niente. Io penso che era una squadra a nostro livello, molto buona, solo che noi abbiamo vinto. E basta. Importa questo. Eh sì. Grazie mille ragazzi. Grazie mille ragazzi. Grazie.